Vediamo il secondo libro in appena un anno, è un libro che regaliamo sabato mattina con la Nazione, faremo oltre 4 mila copie di giornale e sarà legato gratuitamente questo libro che sono 80 pagine che ripercorrono per racconti e immagini 100 anni di storia del calcio amaranto, è una grande operazione che abbiamo fatto insieme ad alcuni sponsor, soprattutto grazie al lavoro di squadra che ha coinvolto in particolare Luca Morosi e Andrea Lorentini che sono gli autori del racconto di questi 100 anni di calcio ad Arezzo e quindi siamo contenti di offrire quest'ulteriore prodotto alla città e siamo convinti che sarà un successo. Fa vivere emozioni, mi sono permesso anche di dedicare la mia introduzione a mio padre Mario D'Ascoli che mi ha preceduto in questo ruolo da capocronista della Nazione, soprattutto è stato un grande giornalista con il cuore amaranto e quindi le emozioni per ognuno di noi sono legate all'Arezzo, alle grandi vittorie e alle amarissime sconfitte, ci avviciniamo al derby e quindi speriamo che questo libro sia di buon auspicio.